Nuovissimi pedali Crankbrother Stamp One di seconda generazione in anteprima. Allora, le prime impressioni hanno cambiato la disposizione. Questa parte centrale, che nella versione precedente era molto rientrante e quindi poteva causare problemi alla scarpa flat con l'aderenza dei vari pin, adesso questa parte qui è più all'interno, quindi è più concava e quindi dovrebbe permettere una maggiore aderenza delle scarpe sui vari pin. La struttura sembra anche più solida, cambia anche un po' la grafica del design. Questa è una taglia S che va per le scarpe fino a 43,5 per misure maggiori, bisogna prendere la misura large. Colore arancione, molto carino, non so se la videocamera rende bene il colore. In questi giorni li proverò sulla mia Orbeera Rise e vi dirò quale saranno le impressioni e una piccola recensione. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervi anche questa prova. Vi ricordo che questi pedali adesso hanno un peso di 321 grammi in taglia S a coppia. Ok, grazie a tutti e al prossimo video. Ciao!